C'è i carcerati, uno va a trovare carcerati che si sente di andare a trovare, che sono fratelli, è chiaro che c'è un legame e sarebbe più importante come opera per incoraggiare i fratelli che sono in carcere, però se uno si sente sospinto da Dio di andare a trovare, non andare a trovare carcerati così, vado a trovare carcerati, così per farmi una gitta, cioè ci deve essere un vero e proprio, come vi posso dire, ci deve essere proprio un motivo per cui poi dopo uno fa determinate cose, però sono tra le cose che si devono fare, capite? Ma attenzione, non è che se facciamo le altre, una non la facciamo, ci sono problemi, no, quelle sono le opere, che poi ce ne sono anche altre, c'è la lista, io ho fatto una piccola lista dei passi che mi sono ricordato ed ho citato alcune opere, perché serve quella lista, perché serve sapere quelle cose, serve sapere che ci sono delle opere da compiere, il senso di tutto qual è? Che non ci si deve limitare alle parole, cioè questo è il senso. Vi faccio un esempio, no? Va bene, allora parliamo, parliamo delle opere, no? Andiamo, aprite le vostre scritture, Matteo 6, Matteo 6, quindi andare a trovare carcerati, certamente se mio padre non è convertito, vi faccio un esempio, per chiudere l'aspetto, se un fratello è in carcere e lo vada a trovare, tanto più, tanto più se è a motivo dell'Evangelo. Se è in carcere a motivo dell'Evangelo, beh, mi sembra che sia non obbligatorio di più andare a trovare un nostro caro fratello che è in carcere a motivo dell'Evangelo, per vedere se ha bisogno di qualche cosa, perché se non l'aiutiamo noi, il nostro fratello che è in carcere, chi lo deve aiutare, no? Capite? Però vi faccio un altro esempio. È in carcere, mio padre va in carcere, non è credente, che faccio? Lo abbandono? Anche se è stato malvagio, che faccio? Lo lascio stare e non vado a vedere se ha bisogno di qualche cosa? Come ci dobbiamo comportare? Come dobbiamo unire i due comandamenti, praticare, no? Andare a trovare le persone in carcere con onora tuo padre e tua madre, no? Anche se è stato malvagio e io ho un legame con una persona e lo vado a trovare in carcere con l'aspettazione di potergli annunziare l'Evangelo, esortarlo a ravvedersi, a credere. Cioè, lo devo fare se ho questa possibilità. E' preferibile andare in carcere, andare negli ospedali a parlare alle persone malate, piuttosto che andare nelle zone dove si festeggia, dove c'è divertimento. Capite? Quindi bisogna fare tante considerazioni. Lì, diciamo, dice che è lui, quindi come prima cosa è in considerazione il fatto... Cioè, Gesù, no? Quando, dove parla del giudizio, che considera le persone che non sono andate a trovare in carcere, lui dice non siete venuti a trovarmi. Quindi possiamo anche considerare il fatto che si riferisce ai credenti. Questa è la cosa importante, che almeno i credenti devi andare a trovarli. Quello è obbligatorio, capite? Quello è obbligatorio. Però, però, se uno si sente di andare a trovare un carcerato che in qualche maniera o gli ha parlato dell'Evangelo, o è un suo vicino di casa, o è un suo parente, o comunque un amico, un collega, qualcuno che... Diciamo, tu vuoi annunziargli l'Evangelo, vuoi fargli vedere che Cristo Gesù lo ama e quindi gli fai vedere in pratica che è amato da qualcuno, che qualcuno lo pensa, fa bene. E anche quella è un'opera buona. È chiaro che è maggiormente concentrata la questione sui nostri fratelli. Però, se uno va a trovare un non credente, non è che sbaglia. Attenzione. Perché? Ci sono, ad esempio, ci sono delle organizzazioni. Ora, a parte il fatto che siamo contrari alle organizzazioni, no? Vabbè, ma tralasciamo questo. Partono male perché si organizzano, vanno, chiedono autorizzazione allo Stato che poi per entrare nei carceri devi chiedere autorizzazione, non è che entri così. E quindi, purtroppo, magari ti possono anche costringere, perché se no tu in carcere non entri. Ma ora, tralasciamo le motivazioni che spingono a entrare in carcere. A noi cosa ci interessa di più? A noi ci interessa di più che certuni entrano dentro le carceri e annunziano l'Evangelo, fanno un culto, parlano del Signore, intrattengono un dialogo con quelle persone che sono ritenute la feccia dell'umanità. E ci sono di quelli che cercano di dare un senso anche alla loro vita. Visto che ormai è perduta, metti gli ergastolani, è una vita buttata, no? Stai là, che fai? Beh, almeno c'è uno che ti annunzia l'Evangelo e ti può liberare l'anima. Non ti può liberare il corpo, ma l'anima può essere liberata dal peccato, annunziando l'Evangelo, annunziandoti la salvezza in Cristo Gesù. Quindi è un'opera grande, tu stai cercando, andando in carcere, tu vai a cercare quelle persone che sono ritenute la feccia dell'umanità, che nessuno va a cercare là, capite? Quindi è un'opera, anche grande, se vogliamo, è un'opera. Un'opera che io ritengo anche potente. Potente, cioè grande, che ha del valore, perché quelli non ti possono restituire nulla. Quelli tu devi solo dare a loro, e quindi più opera di quella quale volete che sia. Tu vai là solo per dare qualcosa, tu non ti devi aspettare niente, perché un carcerato cosa ti può dare. Quindi è un'opera importante, anche quella. Ma perché stiamo parlando delle opere? Stiamo parlando delle opere, stiamo facendo qualche esempio, stiamo citando qualche elemento, perché, diciamo, per le cose che sono successe, in collegamento sempre alle cose che voi conoscete, che sono successe affinché i fratelli sappiano che alle parole bisogna aggiungere i fatti concreti, come anche l'Apostolo Giacomo, fratello del Signore, ci ha insegnato. E abbiamo letto tante volte, abbiamo letto le opere di cui parla Giacomo, l'abbiamo lette in funzione della fede. Cioè, se non ci sono le opere, la fede è morta. E quindi guardate quanto sono importanti le opere. Perché le opere, non è che vengono, cioè, stiamo parlando di opere che devono compiere quei credenti che sono già salvati, capite? Quindi le opere, in questo senso, per queste persone, non si parla di opere che salvano, capite? Perché non si può dire che le opere salvano, che stiamo annunziando la salvezza per le opere? Non si può dire questo, non ci si può addebitare, perché? Perché noi stiamo dicendo che quelle persone che sono già state salvate per mezzo della fede in Cristo Gesù e che sono rigenerati spiritualmente dallo Spirito Santo, quelle persone devono abbondare nelle opere. Perché? Devono abbondare nelle opere. Stiamo esaminando le opere dal punto di vista di Giacomo, adesso. E' importante compiere le opere, ma non c'è bisogno che uno venga a strappare le opere dalle mani dei credenti. Perché non c'è bisogno? Perché è la fede che c'è in te, è l'amore che uno ha per il Signore che ti spinge a compiere quelle opere. Non c'è bisogno, se tu hai fede in Dio, sai che il Signore ti chiede di fare determinate cose. Tu lo sai bene questo, ogni credente lo sa e lo deve fare, lo deve mettere in pratica, quindi sarebbe anche superfluo parlarne. Si dovrebbe parlare solo della fede, però ce n'è bisogno perché purtroppo ci sono quelli che, arrivati a un certo punto della loro vita, smettono di compiere le opere. oppure non le hanno mai compiute. Cosa, cosa, cosa vuol, la mancanza di opere cosa ci fa vedere? La mancanza delle opere ci fa vedere che c'è un problema di fede. Ecco cosa dice Giacomo. Giacomo ci fa vedere la strada, ci dice guardate che se non vedete le opere anche la fede può avere dei problemi. Ora, le opere non salvano ma la fede sì però. La fede che ci è stata iniziata a donare nel momento in cui siamo nati di nuovo, nel momento in cui siamo stati salvati, la fede ha iniziato in quel momento ad abitare dentro di noi, in quel momento e da quel momento deve andare crescendo, non deve scomparire. però se la fede c'è si deve vedere, capite? Si deve vedere, non può rimanere nascosta se c'è la fede in una persona. Se una persona è credente, è cristiano, si deve vedere dalle opere che fa perché non corre nelle stesse direzioni che corre il mondo, non parla come parla il mondo, aiuta anche i suoi nemici, non prova rancore, odio, capite? Agisce in una maniera totalmente diversa, compie delle opere, ha dei comportamenti che tutti lo vedono che quello lì è diverso dagli altri. Il cristiano deve essere diverso dagli altri. Il cristiano deve vedersi che è cristiano, se no non va bene. Se uno è sardo, se uno è straniero, se viene in Italia parla e noi lo riconosciamo, quello è uno straniero, sta parlando in italiano, magari lo parla anche bene, però l'accento si capisce che è straniero, quindi diciamo è uno straniero, vedete? e così è per i credenti. Quando parlano, non è che per forza devono dire sempre gloria a Dio, alleluia, non è così che si riconosce il credente. Il credente si riconosce perché fa discorsi seri, assennati, giusti, non ha riguardi personali, non dice parolace, non dice non dice non dice niente che sia sconveniente e il cristiano si riconosce, si deve riconoscere già nel parlare, vedete? Sta già facendo un'opera, sta già facendo un'opera buona che sta dando un esempio di come si deve parlare e intrattenere un rapporto con le altre persone senza prendere in giro, senza schernire, senza senza fare del male a nessuno, capite? Non solo a parole ma anche con i fatti, anche con i fatti. Quindi per tornare a Giacomo, Giacomo cosa ci dice in quel capitolo famoso 2 versetto 14 fino al versetto 26? sta spiegando che alla fede devono seguire le opere ma è una cosa meravigliosa perché altrimenti è una cosa così potente così adesso saltiamo Matteo e andiamo a Giacomo e leggiamo qualche versetto ma è una cosa così importante quelle parole di Giacomo che veramente perché in questi versetti dal versetto capitolo 2 di Giacomo versetto 14 fino al versetto 26 si concilia e si spiega le opere con la fede attenzione però qui Giacomo sta parlando delle opere che devono compiere coloro che sono già salvati quindi non sta dicendo fai le opere perché sarai salvato non si può usare le parole di Giacomo per dire che la salvezza è per opere perché qui la salvezza cioè Giacomo sta parlando di quelle opere che devono compiere le persone che sono già nate di nuovo che sono già salvate quindi non sta parlando di opere che ti portano ad ottenere la salvezza però fa ragionare Giacomo e dice badate bene che se siete nati di nuovo però se siete salvati le opere devono esserci perché è una sorta di manifestazione di fede capite cioè le opere che noi facciamo sono una manifestazione della fede che noi abbiamo dentro il nostro cuore quindi vi pare che sia poco stiamo dicendo qualcosa che è di poco conto perché se la fede tu ce l'hai nel cuore si deve manifestare esteriormente si deve per forza ho parlato anche altre volte che la fede se c'è deve vedersi si deve vedere in qualche maniera si deve manifestare tutti la vedono la fede ci può essere anche una fede potente come quella che aveva Gesù un dono spirituale della fede particolare una fede molto potente una fede che smuove le montagne una fede che ti fa camminare sulle acque vedete la fede ha fatto camminare nelle acque Pietro va bene quel camminare nelle acque di Pietro che ancora oggi noi leggiamo tralasciamo il fatto che Gesù abbia camminato nelle 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 acque perché camminò per fede però mettiamo ma beh ma lui è Dio ci stiamo ci sta la cosa ma vedete come il Signore ci soccorre per darci l'insegnamento ha aggiunto anche Pietro perché apparentemente sembra non avesse senso il fatto che Gesù cammina sulle acque però fa camminare anche Pietro perché non li ha fatti camminare tutti perché non ha bastato che fosse scritto di Gesù perché ha dato due esempi l'esempio perfetto è quello di Gesù che non è caduto nell'acqua ma poi c'è anche l'esempio umano anche l'uomo può camminare nelle acque se ha la fede sufficiente però attenzione l'uomo è fallace l'uomo può sbagliare l'uomo può venire meno l'uomo può cominciare bene e cadere nell'acqua quindi quella fede che aveva Pietro all'inizio che l'ha cominciato ad accompagnare e gli ha permesso di camminare sulle acque ad un certo punto è venuta meno Pietro ha cominciato a guardare con i suoi occhi le onde del mare le cose della vita spiritualmente a volte anche noi cominciamo a camminare per fede verso una certa direzione poi cominciamo a guardare scientificamente con le probabilità umane cominciamo a guardare con gli occhi terreni non più attraverso le scritture attraverso gli occhi di Dio ecco quando noi guardiamo attraverso soltanto le scritture e gli occhi del nostro Signore Gesù Cristo vediamo delle cose grandi e magari ci incamminiamo per esse e stiamo iniziando a fare delle cose importanti poi tralasciamo quello succede qualche cosa e noi ci mettiamo a guardare con i nostri occhi e vediamo che le onde del mare erano furiose la tempesta diciamo imperversava in quel mare se c'era vento se c'era e quindi Pietro è caduto nell'acqua perché la fede è venuta meno capite quindi vedete come si vedeva la fede quando la fede c'è si vede la fede ho fatto appositamente una predicazione anche sul fatto che la fede se c'è deve vedersi e siccome Giacomo lo sapeva questo fa questo ragionamento e dice oh fratelli badate bene guardate che se la fede c'è si deve vedere come si deve come si vede questa fede si vede con le opere va bene con le opere fa degli esempi lo stesso Giacomo fa degli esempi di quale opere stiamo parlando dice che Giova fratelli miei se uno dice di avere fede ma non ha opere può la fede salvarlo cioè qui sarebbe da dire puoi dire di essere salvato per fede senza fare delle opere se le opere sono conseguenti alla fede ciò vuol dire che la fede è morta non c'è più quindi io a parole soltanto posso dire di essere credente di avere fede ma se non ci sono opere questa fede dov'è dov'è capite poi dice se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e un di voi dice loro andatevene in pace scaldatevi sattollatevi ma non date loro le cose necessarie al corpo che Giova cioè che Giova che uno mi dice a me io sono stato salvato c'ho fede c'ho i doni qui e c'ho i doni là sono un ministro di Dio ma se non ha opere e non date a mangiare al fratello povero che c'è vicino anzi gli dice come quasi per schernirlo gli dice oh no vai che Dio ti benedica e ti provveda da mangiare ma se tu stai accumulando denaro se tu hai conto in banca che puoi aiutarli puoi comprargli un chilo di pane e compraglielo no cioè capite ecco dove dove si è evidente che l'opera è mancante e Giacomo come tutte le scritture lo fanno notare questo quanto sono importanti le opere vi ricordate anche in un altro punto è scritto è scritto ma per farvi capire quanto è importante le opere a che cosa porta adesso vi leggo anche un altro passaggio no perché io voglio che voi comprendiate quanto sono importanti le opere poi possiamo fare delle liste lunghissime di opere da fare però ci sono delle opere da compiere tu devi farle le opere quelle che ti capita che devi fare che ti incontri che Dio ti mette davanti che non è che le devi per forza fare tutte cioè ci sono quelle che tutti possano fare e ci sono quelle che devi fare se ti capitano vediamo quest'altro esempio che voglio farvi di opera di opera di di cioè che fa notare quanto è importante compiere quell'opera allora dice qui allora prima Timoteo capitolo 5 prima Timoteo capitolo 5 dice per quanto riguarda l'aiuto delle vedove no il passaggio riguarda l'aiuto delle vedove ma se una vedova ha dei figlioli o dei nipoti imparino essi prima a mostrarsi pi verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori per questo è accettevole perché questo è accettevole nel cospetto di Dio or la vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in supplicazioni e preghiere notte e giorno ma quella che si dà i piaceri benché viva è morta anche queste cose ordina onde siano irreprensibili ora notate questo passaggio stavo cercando questo passaggio che adesso io vi leggo e che voglio voi consideriate alla luce delle opere del fede che se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo quindi qui sta parlando di aiutare concretamente dei genitori se il genitore non ha più una casa se il genitore non ha da mangiare se non ha preso una pensione perché allora all'epoca le pensioni non c'erano quindi per forza bisognava che qualcuno l'anziano e il genitore lì l'aiutasse capite allora per non gravare sulla chiesa Paolo spiegava a Timoteo che doveva insegnare queste cose che dovevano prima di tutto provvedere i parenti stessi nipoti i figli capite perché perché in linea stiamo parlando di persone essenzialmente anziane quindi i giovani si presume che lavorassero hanno più probabilità e forza di lavorare quindi chi doveva provvedere per quegli anziani dovevano provvedere i nipoti e i figli capite perché erano una forza lavoro giovane capace di lavorare e di procurarsi da mangiare mentre magari i genitori ormai erano erano o malati o vecchi non ce la facevano più e quindi non c'erano le pensioni qualcuno doveva provvedere per loro e Paolo ha ordinato a Timoteo di insegnare queste cose qui il discorso che ha fatto Paolo a Timoteo è molto forte perché è molto forte è molto forte perché dice che se uno non provvede ai suoi è peggiore dell'incredulo ha rinnegato la fede vedete senza quell'opera era da considerare come se avesse rinnegato la fede peggiore dell'incredulo quindi vedete quanto sono da considerare importanti le opere non sono da tenere di poca considerazione però ogni situazione di ogni persona va vista alla luce di determinate sue situazioni particolari capite magari uno può dire ma io sto aiutando il pastore se uno mi dice io sto aiutando il pastore e c'ha invece il genitore che sta morendo di fame non c'ha una casa non c'ha da bere non c'ha da mangiare non c'ha da vestire rimane il fatto che è peggiore dell'incredulo lui deve iniziare ad aiutare da quelli di casa sua perché tu aiuta quelli di casa tua poi il pastore ci sarà qualcun altro che l'aiuta altrimenti può accadere questo tutti aiutano il pastore il dottore il profeta l'apostolo e lo riempiono di soldi e gli altri poveri gli altri poveri rimangono senza il necessario capite ora ai tempi degli apostoli questo non succedeva perché perché scusate perché non succedeva perché è vero davano molto agli apostoli mettevano ai piedi degli apostoli le loro offerte poi gli apostoli prendevano e li dividevano a tutti i bisognosi e lo facevano in una tale maniera in una tale maniera che non c'era nessuno che aveva più bisogno c'è stato un periodo in cui c'erano dei problemi che le donne greche le vedove greche erano trascurate però quelle invece ebree quelle giudee invece erano aiutate di più poi stabilirono dei diaconi e risolversero il problema i problemi nella chiesa ci sono sempre stati ai problemi bisogna risolvere bisogna reagire dialogando e cercando una soluzione tutti insieme con la chiesa perché non c'è un uomo solo non c'è mai stato un uomo solo capo di tutto il capo di tutto è Gesù Cristo soltanto quindi se lui è presente nell'assemblea e parla a lui siamo tutti zitti e facciamo come dice lui ma se diciamo ci siamo noi credenti che stiamo discutendo e decidendo le cose possiamo parlare tutti non è che si deve parlare per dire quello che gli passa per la testa sempre con sapienza attinente alla questione che si sta discutendo però per tornare al nostro soggetto principale sulle opere da compiere qui abbiamo visto che è un'opera importantissima perché se non viene compiuta cioè se non viene compiuta se i figli o i nipoti non aiutano il genitore bisognoso che ha bisogno dice qui che ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo peggiore dell'incredulo quindi l'opera concreta manifesta qualcosa se un figlio si rifiuta di aiutare i genitori ha rinnegato la fede è peggiore dell'incredulo è peggiore dell'incredulo quindi che cosa ci dobbiamo fare noi credenti con uno che fa così capite che si comporta così non non cioè bisognerà applicare la disciplina su di lui mandarlo via perché che te ne fai di uno che la fede l'ha presa e l'ha scaraventata via perché non vuole aiutare i suoi genitori vedete quanto è importante considerare anche le opere è importante insieme alla fede naturalmente insieme a tutte le altre cose però anche le opere hanno bisogno della loro importanza quindi vedete Giacomo ci dice che la fede senza le opere è morta va bene ce lo dice Giacomo e questo è un segnale negativo se mancano le opere Timoteo ci dice che una certa opera se non viene compiuta se tu non aiuti i tuoi genitori i tuoi familiari hai rinnegato la fede sei peggiore dell'incredulo vedete quindi altre cose che ci fanno capire quanto è importante praticare le opere adesso andiamo anche leggiamo anche in Matteo Matteo dove era il 25 il giudizio sì Matteo 25 no? questo è il giorno del giudizio va bene il Signore raccoglie no? tutte le sue raccoglie tutti e separa le pecore dai capri li mette a destra le pecore e a sinistra i capri e dice dice così venite voi Gesù che parla voi i benedetti del Padre mio eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo perché ebbi fame e mi deste da mangiare vedete cosa sta giudicando il Signore non sta giudicando quante predicazioni hai fatto non sta giudicando quante parole hai detto quanti libri hai scritto quante profezie hai fatto poi ci sono anche un altro passo nel quale parla appunto che quelli dicevano ma io non ho profetizzato e Gesù nel nome tuo anche se è vero che l'hanno fatto però Gesù li ha cacciati via dicendo andate via da me operatori di iniquità Gesù guardava le opere non quante profezie quanta manifestazione dello Spirito Santo c'è stata in te guarda le opere questo per dirvi quanto è importante le opere insieme alla fede attenzione io non sto parlando di opere soltanto e la fede tralasciamola no ma le opere sono la conseguenza la manifestazione esteriore della fede che noi abbiamo quindi considerate quanto è importante le opere e quindi dalle opere vediamo anche la fede qui Gesù dice ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sette e mi deste da bere fui forestiere e mi accoglieste cioè ero un forestiero venivo da fuori voi mi avete ospitato capite mi avete dato da mangiare e mi avete ospitato vedete l'ospitalità fui ignudo e mi rivestiste quindi se tu vedi un fratello che non c'è un vestito che non c'è una roba che non c'è roba da vestire ma è chiaro che bisogna applicarsi perché sia vestito no fui infermo e mi visitaste vedete è una cosa molto importante ma anche molto incoraggiante per chi è malato che se uno si trova all'ospedale oppure anche si trova a casa sua malato ma è normale che dobbiamo siamo obbligati ad andare a trovare no ma questo lo fanno anche quelli del mondo non c'è bisogno neanche che leggano la Bibbia lo fanno automaticamente quelli del mondo eppure noi abbiamo bisogno vedete di insegnarle queste cose di ricordarle e qualcuno digrigna anche i denti anche ti accusa perché sembra che gli stai dicendo sembra che gli stai tagliando un pezzo di carne e gli stai dicendo guarda che devi fare le opere guarda che devi fare questo e questo e quest'altro per il tuo bene per il bene dell'anima tua affinché tu entri nel regno dei cieli tranquillamente non è che ti diciamo queste cose perché ti vogliamo tagliare un braccio capite o ti vogliamo per forza togliere il tesoro che hai consumi i soldi no quindi fui infermo e mi visitaste quindi quando uno è infermo bisogna ad esempio se siamo tanti e c'è qualcuno infermo metti in una città una chiesa in una città perché noi è un po' più difficile per noi perché essendo distanti dispersi per tutta Italia o anche fuori dall'Italia qualcuno essendo dispersi praticamente non è facile andare a trovare no se uno è un attimo infermo però il ragionamento che noi facciamo deve essere presente nel nostro cuore almeno il desiderio se fosse vicino di andare a trovare l'infermo ad esempio nella stessa città una chiesa che si riunisce se c'è una persona malata è cosa buona che tutti vadano a trovarlo però bisogna farlo con intelligenza perché non è che siamo 50 andiamo tutti insieme lo stesso giorno alla stessa ora facciamo solo una gran confusione e non si riesce neanche a portare l'effetto che si deve portare no? abbiamo fatto solo numero in un colpo solo allora si deve andare con intelligenza quello deve stare lì un giorno due giorni tre giorni cinque giorni e ci dividiamo diciamo fratelli allora quando è possibile andare? è possibile la mattina allora chi ci va la mattina chi è libero la mattina chi è libero il pomeriggio chi è libero la sera si stila una lista e lì ci sarà sempre qualcuno ad incoraggiare il fratello a tal punto che non rimarrà solo rimarrà solo per il meno possibile quando solo magari l'ospedale ti ha lasciato fuori che non ti fa entrare ma in tutti gli altri momenti c'è stato sempre qualcuno che gli ha dato una parola di conforto che ha pregato con lui e poi ma volete dare una quale testimonianza più grande c'è gli altri che sono vicini al letto del malato credente se vede tutto questo via vai della chiesa che prega per lui che 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 lo consola che gli dà una parola ma voi vedete gli altri che sono malati vedranno queste cose vedono le opere vedono la fede vedono l'amore che abbiamo gli uni gli altri capite lo vedono non c'è bisogno di suonare qui non si sta parlando di fare opere e suonare le trombe questo non c'è tra niente quella è un'altra cosa se io faccio un'opera che posso tenere nascosta e la sbandiero quello è sbagliato però se io vado a trovare un fratello uno mi dice dove stai andando a trovare il fratello che è all'ospedale mica lo devo nascondere che vado a trovare il fratello che è all'ospedale ed è un'opera buona capite ma non lo faccio per farmi vedere lo faccio per aiutare il fratello per dargli una parola di conforto e di consolazione capite e quindi vedete colui che è infermo è malato bisogna andare a trovarlo poi se si trova a casa ci si organizza con chi gestisce la casa e si dice guardate quanti ne puoi ospitare insieme insieme tre cinque e si va si organizza non andiamo tutti insieme perché se no riempiamo la casa non ci stiamo neanche dentro e comunque ognuno dovrebbe dare una parola di consolazione di conforto e così tutti insieme tutti e cinquanta insieme lo stesso momento non si può fare quindi con intelligenza ci si distribuisce e poi si rigira perché se quello è infermo e rimane infermo per molto tempo bisogna distribuire gli sforzi con intelligenza no? cioè ci si organizza per andare a trovare io vado lunedì io vado martedì l'altro va mercoledì io vado di mattina pomeriggio mattina pomeriggio sera e si va quando si può ah io posso andare solo domenica va bene allora tu vai solo domenica tu vai domenica e gli altri giorni facciamo andare chi può andare gli altri giorni capite? ci si organizza ma queste non sono cose che organizza il pastore o queste sono cose che diciamo i diaconi no? quelli che aiutano nella chiesa gli anziani e il pastore devono gestirle loro le assistenze ai bisognosi ai carcerati le assistenze ai poveri che al servizio alle mense organizzare di andare a trovare i malati ma anche andare a trovare gli anziani se nelle comunità ci sono degli anziani che sono da soli in casa anche loro vanno bisogna andare a trovarli qui non l'ho trovato è scritto però bisogna andare lo stesso a trovarli perché è un'opera buona da compiere bisogna fare tutte queste cose ma ce ne sono tante di opere che si possono compiere vi faccio un esempio arrivano dei fratelli dall'estero va bene quindi vanno subito a scuola questi rimangono indietro perché i genitori non li possono seguire in lingua italiana una cosa e l'altra cosa bisogna fare allora bisogna bisogna sempre attraverso i diaconi che organizzano che stimolano i giovani dicono guarda che oggi lunedì mercoledì giovedì quando è vengono questi figli di questi fratelli e voi dovete fargli lezione di italiano di matematica di geometria di quello che è perché i nostri figlioli non devono rimanere indietro di niente e di nessuno capite noi dobbiamo dare l'esempio in tutte le cose possibili in tutto e facciamo vedere la carità quindi partiranno a scuola in difficoltà ma piano piano recuperano perché perché tutta la chiesa è impegnata ad aiutare ogni singolo membro su qualsiasi situazione si possa verificare non soltanto qui l'aiuto non è solo di soldi capite l'aiuto può essere di tempo quello sta facendo un trasloco ha bisogno di mani d'aiuto quell'altro deve pitturare casa andiamo ad aiutarlo quell'altro ha bisogno di un'altra cosa e si aiuta non c'è solo i soldi capite i servi di mammona parlano solo dell'opera dei soldi noi invece parliamo di tutte le opere che servono per manifestare l'amore verso i fratelli che la fede che si manifesta la fede attraverso le opere capite questo è una chiesa io vi sto ragionando per noi la situazione è un po' particolare per quello che siamo ma questo sarebbe i discorsi da fare nelle comunità affinché ognuno si dia da fare non deve esserci nessuno che non fa niente nella chiesa capite devono lavorare tutti tutti devono essere impegnati il corpo è unico e ognuno deve dare tutto quello che ha per il funzionamento del corpo che vada tutto bene c'è quello che i soldi non ne ha vabbè farà qualcos'altro c'è quello ricco che è impegnatissimo non ha un minuto libero però c'ha i soldi e aiuta con i soldi capite c'è quello che c'è tanto tempo non c'ha soldi ma c'ha tanto tempo e dà il suo tempo c'è un altro che c'ha un'altra cosa e dà quello capite ma tutti devono dare fare e dare qualche cosa nella chiesa dobbiamo partecipare tutti in base a quello che Dio ci ha donato quindi visitare gli infermi ma anche gli anziani le vedove gli orfani vi ricordate che sta anche scritto guardate perché io ho scritto qualcosa proprio oggi ho fatto una lista ma veloce ma solo per dare degli spunti ma non è completa perché adesso me ne sto ricordando altri allora dove è scritto forse sempre in Giacomo la religione vera e pura davanti a Dio è questa allora allora Giacomo 1 27 la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa dici visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi e conservarsi puri dal mondo vedete vedete queste opere se uno dice di essere religioso la vera religione la vera religione è quella che si muove è quella che va a trovare le persone afflitte bisognose quelli che che va a visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni capite e ci sono anche in mezzo a noi ne conosciamo qualcuno purtroppo distante però sarebbe stato buono visitare anche queste queste persone sofferenti io lo metto come mancanza eh cioè non lo sto dicendo che io non sto asserendo che ho praticato sempre tutto questo no però sono obbligato a dire le cose come stanno dopo ognuno di noi renderà conto a Dio di quello che ha fatto di quello che non ha fatto però le cose stanno così vedete anche visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni vedete visitare muoversi movimento vedete la chiesa è un insieme di persone in movimento non statica in un locale di culto no non è una cosa statica ferma bloccata in un locale di culto e basta è qualcosa un corpo sempre in movimento da una parte dall'altra dove c'è bisogno di una parola di aiuto di consolazione capite la chiesa si muove si deve muovere altrimenti rimane qualcosa di morto come dice Giacomo senza le opere la fede è morta senza le opere la fede è morta c'è poco da fare è così poi dice fui infermo e mi visitaste fui in prigione e veniste a trovarmi anche in prigione no a cominciare dai dai credenze da quelli che noi abbiamo un certo rapporto magari di credente oppure familiare bisogna agire ed operare e queste sono una piccola lista che ho fatto di opere se noi vediamo no allora un'altra lista un'altra piccola lista allora questi che vi sto citando io sono quelli maggiormente importanti citati anche dalla scrittura evidenziati e quindi molto importanti che sono citati nella scrittura ad esempio se andiamo adesso a leggere da Matteo 6 Matteo 6 dal versetto 1 dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro altrimenti non ne avrete premio presso il padre vostro che è nei cieli qui in questo versetto cosa sta dicendo ci dice diverse cose Gesù perché è Gesù che sta parlando dice che non dobbiamo praticare la nostra giustizia ecco qui vorrei soffermarmi per spiegarvi che c'è anche una giustizia dell'uomo perché magari siamo abituati siamo abituati a sentire che c'è la giustizia di Dio che cos'è la giustizia di Dio la giustizia di Dio è la salvezza per mezzo della fede nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto attraverso ha compiuto sulla croce attraverso questa fede nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto si ottiene la remissione dei peccati si diventa giusti quindi questa è la giustizia di Dio cioè come si diventa giusti per il Signore e questa è la giustizia di Dio ma c'è anche una giustizia dell'uomo infatti vengono chiamate anche le opere giuste cioè qui viene chiamata la vostra giustizia le opere di cui viene citato qui vengono ricordate qui in Matteo 6 la vostra giustizia cioè le nostre opere buone le opere buone le opere giuste che devono compiere i crenti gli uomini naturalmente qui Gesù sta dicendo che queste opere giuste noi non è che le dobbiamo compiere per farci vedere dagli altri e suonare la tromba capite noi dobbiamo fare le opere giuste perché dobbiamo farle ma non per innalzarci e farci vedere dagli altri capite noi dobbiamo fare le opere giuste perché perché il Signore ci richiede di farle e i fratelli ne hanno bisogno capite ne hanno bisogno e quindi le facciamo non per farci vedere dagli altri le facciamo perché il fratello ne ha bisogno ha bisogno magari che vada a trovarlo ha bisogno di una parola di conforto o di altre cose qui Gesù parla di tre opere in modo particolare queste tre opere sono una manifestazione della fede sono molto importanti sono fondamentali per la vita di un credente e sono fare elemosina cioè donare del proprio dei propri beni a coloro che ne hanno bisogno a cominciare dalla Chiesa a cominciare dai familiari come abbiamo letto prima a cominciare dai familiari la Chiesa e perché no se c'è bisogno anche se c'è bisogno qualcuno anche dei non credenti che noi ci troviamo vicini a loro o in qualche maniera sappiamo o vogliamo farlo comunque possiamo aiutare anche possiamo aiutare anche i non credenti naturalmente in ordine di tempo e scusate in ordine di importanza vengono prima i parenti e la Chiesa capite però se è possibile se si riesce in qualche maniera si aiutano anche i non credenti quando le risorse sono limitate bisogna vedere un po' come distribuire quello che noi abbiamo e questa è l'elemosina l'altra cosa citata da Gesù è la preghiera è la preghiera anche vedete che fa parte della giustizia dell'uomo anche la preghiera quindi la preghiera non costa nulla non devi dare soldi a nessuno quindi la preghiera la può praticare anche un povero ammettiamo che una persona non riesce una persona anziana qualcuno non riesce a fare altro almeno però si può mettere in preghiera e pregare Dio magari più degli altri perché c'ha più tempo ed è magari l'unica cosa che può fare non può andare a visitare non può magari però pregare sta a casa sua anche seduto perché se un anziano non riesce a mettersi in ginocchio può pregare in piedi può pregare seduto può pregare come vuole l'importante è che prega con tutto il cuore capite quindi anche la preghiera naturalmente non devi pregare per farti sentire dagli altri lo devi fare in sincerità non per ottenere un tornaconto personale capite per farti vedere spirituale dagli altri e c'è anche la preghiera poi poi oltre la preghiera c'è anche il digiunare il digiuno è un'altra pratica importante che manifesta anche quella il tuo livello spirituale prima di tutto devi essere convinto di farlo devi sapere cos'è devi essere convinto e ti porta grande sacrificio farlo quindi il digiuno è un'opera grande cosa fa il digiuno il digiuno è un'offerta che tu fai di afflizione dell'anima tua per chiedere qualche cosa di particolare al Signore quindi il digiuno praticamente collegato alla preghiera rafforza la richiesta che uno fa al Signore affliggendo l'anima sua dedicandosi in quel tempo che ha stabilito di digiunare dedicandosi totalmente alla preghiera a invocare ad adorare Dio perché sta dimostrando di umiliarsi davanti a Lui chiedendo di ottenere una determinata cosa tu dimostri di volerla a tutti i costi con tutte le tue forze ecco il digiuno fatto bene quello fatto bene non quelli ah io il venerdì non mangio pasta il giovedì non mangio carne il martedì bevo solo tè capite perché io ho sentito digiuno chiamano digiuno tutto quello che circola nel mondo ma non è così il digiuno tu non mangi niente non bevi niente per un periodo di tempo che il minimo dovrebbe essere una giornata no 24 ore poniamo stabilisci tu quando e come in base alle tue esigenze la tua vita stabilisci tu non mangi non bevi e ti dedichi naturalmente non è che poi vai a lavorare non ha senso no allora perché perché il digiuno ti fa ti serve per concentrare con tutto il tuo corpo con tutta la mente con tutto te stesso ti serve per concentrarti in Dio tu lodi e glorifichi Dio tutto il giorno e preghi Lui leggi le scritture canti al Signore capite stai innalzando questa tua richiesta questa preghiera e stai dedicando tutto te stesso per questa richiesta affliggi l'anima tua affliggi il tuo corpo e il digiuno è qualcosa che è un'opera buona è un'opera che Dio gradisce è un'opera che Dio vuole che venga fatta infatti vedete è elencata nella giustizia dell'uomo quindi sono le opere che bisogna compiere in libertà non c'è scritto quante volte lo devi fare però devi farlo devi fare esperienza devi conoscere anche questo aspetto della parola queste opere buone almeno per sapere che cos'è se no tu senti parlare di digiuno e non l'hai mai fatto e quindi non sei in grado di capirlo fino in fondo se non l'hai praticato ed è utile perché tu spiritualmente ti elevi credetemi questo ve lo dico anche per esperienze una volta che avete digiunato voi spiritualmente non siete quelli di prima del digiuno siete spiritualmente elevati è chiaro che non è che dura per sempre l'effetto di elevazione spirituale interiore però certamente dei giorni voi sarete spiritualmente molto più elevati quindi se uno digiuna spesso sarà sempre a livelli spirituali elevati se lo fa sinceramente nella maniera giusta sempre se uno lo fa solo per farsi notare quello può digiunare tutti i giorni per dire ma se non è corretto non serve a niente quindi abbiamo visto vedete altre tre cose che la scrittura ci richiede che noi facciamo elemosina preghiera e anche digiuno collegata una preghiera il digiuno non un digiuno io oggi non mangio però vado a lavorare faccio i fatti miei no nel giorno del digiuno tu sparisci per il mondo va bene e sei alla presenza di Dio tutto il giorno tutta la notte è quello che tu stabilisci il mondo scompare non c'è più nessuno parenti quindi bisogna organizzarsi per fare un digiuno fatto bene ti devi organizzare lo devi fare nel giorno giusto al momento giusto informare chi devi informare quel giorno se tu sei addetto alla cucina non dovrai toccare la cucina perché gli odori e tutto quello che c'è attorno al mangiare al bere ti può disturbare quindi devi stare lontano lo so alcuni magari gestiscono degli anziani digiunano e devono cucinare per gli altri ci sono anche questi purtroppo però solo a sentire gli odori il corpo va in sofferenza capite cioè sentendo degli odori di cibo non mangiando a un certo punto il corpo va in forte sofferenza quindi non vi sentite bene perché il corpo sta andando in contrasto con tutto non riuscite più a controllare tutto capite perché se voi siete concentrati nel Signore solamente nel Signore voi tenete il controllo anche di tutte le esigenze che riguardano il cibo e l'acqua controllate tutto bene ma se poi cominciate a sentire un fastidio un nervosismo perché vi viene fame e dopo non controllate più la situazione non riuscite più a tenere il controllo del vostro corpo della vostra mente e quindi sarà un digiuno che passerà un po' così in grande sofferenza e sarà inutile però l'avete decretato dovete portarlo a termine avete detto di farlo e lo dovete fare poi se l'avete sbagliato magari non per causa vostra però se l'avete sbagliato nel senso che mentalmente siete impegnati a pensare al cibo perché il corpo scappa purtroppo è così è la natura dell'uomo la debolezza della carne non è se uno riesce a controllarsi sempre in tutte le cose va bene ma se non ci riesce va in sofferenza e potrebbe non riuscire a farlo bene però è tutta esperienza mi è capitato anche a me non riuscire a farlo bene in alcuni momenti altre volte è venuto bene gloria a Dio ci sono anche le sconfitte a volte non è che c'è sempre la vittoria dobbiamo capire anche cosa vuol dire sbagliare e poi chiedere perdono a Dio naturalmente quindi avete visto le opere sono importanti sono importanti adesso non me ne viene in mente altra se qualcuno se le ricorda può può ricordare qualche lista da qualche parte però ci sono cose da fare cose anche da non fare perché io mi sono limitato a citare le cose da fare poi ci sono quelle cose da non fare che fanno parte sempre delle opere cioè del comportamento che noi dobbiamo ottenere no? capite? quindi bisogna fare attenzione a queste cose vedete? sono importanti le opere sono importanti attivate